Il bilancio per quanto riguarda quest'anno è stato molto positivo per quanto riguarda questo sistema 1 a 1 che abbiamo adottato a partire da maggio 2014. Per quanto riguarda la nuova metodologia che abbiamo utilizzato, che è quella dell'1 a 1, è sicuramente positivo per tanti ordini di motivi. Primo, innanzitutto noi abbiamo fatto una raccolta per quanto riguarda l'indifferenziato sicuramente minore. Infatti con dati puntuali abbiamo 100 tonnellate in meno su 500 che noi ne facciamo di solito ogni anno. Sicuramente questo era un dato anche buono, anzi ottimo, perché è riferito già al discorso di sei mesi. Sicuramente per il prossimo anno magari possiamo prevedere un 150 tonnellate in meno sempre su 500. Poi consideriamo pure che la raccolta differenziata che noi facciamo è quella che riguarda la frazione secca, quindi si parla di plastica, di carta e di vetro. Abbiamo aumentato la percentuale della raccolta differenziata e quindi è già una cosa che è positiva. E poi la cosa più importante è quella che abbiamo chiuso il cosiddetto cerchio, cioè noi abbiamo promesso ai cittadini che facevano la raccolta differenziata con la metodologia puntuale, appunto questa della 1 a 1, con la bolletta del conguaglio, dando appunto gli sgravi che avevamo promesso all'inizio, proporzionalmente al peso che ognuno ha conferito. Dobbiamo dire pure che c'è una cosa particolare che è successa, che alcuni cittadini, circa 4-5, non è arrivata la bolletta, non sicuramente per errore, ma perché praticamente non avevano nulla da dare come conguaglio perché avevano fatto la differenziata, quindi lo sgravio è stato superiore al conguaglio stesso. Dobbiamo considerare una cosa che forse Suterre è uno dei pochi paesi cui si è potuto dare e quantificare uno sgravio all'interno della bolletta.